Una vera invasione di maglie blu per una mattinata all'insegna della pallavolo. 700 alunni di 12 scuole elementari e medie del capoluogo si sono sfidati sui campi dell'Arcivescovile per la festa di fine anno del Trentino Volley Big School. Il progetto della società gialloblu ha coinvolto nella sua undicesima edizione oltre 10.000 alunni per un totale di 170 classi e circa 300 ore di lezioni dimostrative svolte fra ottobre e dicembre. Grande oltre a coinvolgimento anche la soddisfazione. È la più grande manifestazione che si è organizzata in Trentino per ragazzi di quest'età e noi siamo veramente molto molto orgogliosi perché da campioni d'Europa dimostriamo che il nostro settore giovanile riesce a fare cose veramente grandi e veramente belle. Le oltre 600 mini partite hanno decretato la vittoria della scuola Bronzetti fra le medie e di 35 fra gli elementari ma l'emozione forse più grande è stata quella di condividere i momenti di sport con gli allenatori del settore giovanile gialloblu ma non solo. Tre neocampioni d'Europa, Oreste Cavuto, Gabriele Anelli e Kamil Rikrichki erano presenti per rilasciare autografi e alimentare sogni. Mi chiedono com'è da giocatore e soprattutto credo che possiamo essere una bella ispirazione per tutti questi ragazzi che grazie a noi, grazie al nostro gioco possiamo forse anche permettere a sognare a tutti questi ragazzi di anche fare un percorso simile al nostro.